Benvenuti ad un nuovissimo appuntamento con trucchi segreti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vi manda un saluto Paltrinox e il vostro amato Link. Continuiamo la ricerca dei 152 Sacrari presenti in questo titolo e oggi toccherà ai Sacrari che si sbloccano nella regione di Necluda Orientale, ovvero tramite la torre della palude Lavella, che comprende ovviamente anche il villaggio Vappesca e l'isola di terra finita. Vi ricordo che troverete in descrizione il timelapse ogni capitolo per ogni Sacrario, quindi se cercate un Sacrario specifico basterà che cliccate sopra e il video vi porterà in quel determinato Sacrario. Adesso, che sapete tutto, direi di iniziare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti